Amici amici, volevo essere con voi oggi, per partecipare nel vostro terzo summit. Infatti, i miei committime istituzionali non mi permettono di venire a Zermatt. Volevo ringraziare la vostra iniziativa. L'Europa sta facevano i tempi difficili. Una crisi economica severa sta rinforzando le nostre economie. Questa non è solo una crisi economica, è anche una crisi morale. La ruta di questa crisi è il materialismo e il grido, il amico per il money in itself. Ma il money non può essere un'acqua in itself. È solo un modo di ottenere una vita umana e dignificata. Un'acqua molto importante che non dovremmo demonizzare. Ma il money non è la vita. Il vostro summit è una opportunità cruciale per riflettere su come dare più valore e dignità ai humani. E' un'acqua iniziativa. 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 Il rappresentante da every level of the European Parliament.